Pace e bene a tutti. Leggere insieme l'epistolario di Parepio ci aiuta non solo a conoscere meglio la sua spiritualità, ma anche a condividere un cammino tra i membri dei gruppi di preghiera e i suoi devoti. Stare insieme, camminare insieme e aiutarsi a vicenda nella vita spirituale era uno dei capisaldi della sua formazione, soprattutto perché voleva che insieme si camminasse verso l'eternità. Anche tra le massime eccellenti e generose che lui indica ad Antonietta Vona per vivere costantemente una vita devota, la quarta è proprio quella della vita eterna. Poco deve importare ai figli di Dio il vivere questi brevissimi momenti che passano, purché eternamente vivano nella gloria di Dio. Figliola, considera che sei già incamminata verso l'eternità. Tu già ci hai posto un piede. Non si possono spiegare altrimenti queste parole di Padre Pio se non vengono collocate all'interno della sua esperienza mistica che tiene gelosamente nascosta a tutti, perfino ai propri direttori spirituali che spesso devono spingerlo a comunicare qualcosa della propria vita interiore obbligandolo per obbedienza. Cercheremo oggi di comprendere da vicino questa esperienza mistica che ha così modificato l'esistenza di Padre Pio di rileggendo insieme con voi una lettera che scrive a Padre Benedetto il 20 novembre del 1921. La lettera comincia a pagina 1246 del primo epistolario. Vediamo alcuni brani di questa lettera che possono essere utili al nostro percorso. Sono divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo. Dio per me è sempre fisso nella mente e stampato nel cuore. Mai lo perdo di vista. Mi tocca mirarne la sua bellezza, i suoi sorrisi e i suoi turbamenti, le sue misericordie, le sue vendette o meglio i rigori della sua giustizia. Apparentemente sembra che questo frate che ormai è maturo, ha già le stimmate, da una parte voglia venire meno alla sua regola di riservo e raccontare qualcosa di sé ai direttori spirituali, ma d'altra parte gridare una sua sofferenza. Vediamo perché. Immaginate voi, con tutta questa privazione di libertà propria, con tutto questo legamento di potenze spirituali e corporali, da quali sentimenti sia divorata la mia anima. Credetemi pure, Padre, che delle sfuriate che alle volte ho fatto sono causate proprio da questa dura prigionia, chiamiamola pure, fortunata. Vediamo cosa succede in Padre Pio. Tutti credenti sappiamo che sono amati da Dio, ma non tutti percepiscono questo amore allo stesso modo. Lo stato di grazia nel quale vive Padre Pio gli consente di sentire la sua presenza, cioè la presenza di Dio, in un modo così forte, così coinvolgente, da non riuscire a staccarsi da Lui nemmeno per le cose più necessarie, a quali, ad esempio, mangiare o dormire. E in questa condizione, ecco lui parla di privazione della libertà, si sente quasi condannato, tra virgolette, a restare su questa terra. Perché? Per servire i propri fratelli. La constatazione che la sua libertà ne resta mortificata perché non può lasciare tutto e andare dal suo Dio, lo porta a quello sguardo avvilito sulla sua vita e che gli causa, come dice lui, delle vere e proprie sfuriate. La comunione con Dio non è solo un desiderio, anche noi la vogliamo, ma insomma, poi viviamo la nostra vita. Parepio la vive, condivide col Signore ogni suo progetto, ne prende le difese, si schiera con Lui, si contrista per il male degli uomini. Però notiamo che nello stesso tempo innalza una sua preghiera per chiedere misericordia. Il testo continua proprio in questo senso. Com'è possibile vedere Dio che si contrista per il male e non contristarsi parimenti? Vedere Dio che è sul punto di scaricare i suoi fulmini e per pararli altro rimedio non vi è se non alzare una mano e trattenere il suo braccio. E l'altra rivolgerla concitata ai propri fratelli per un duplice motivo. Che gittino via il male e che si scostino e presto da quel luogo dove sono. Perché la mano del giudice è per scaricarsi su di loro. Le parole successive sono una riminescenza vetro-testamentaria. Come Mosè, Parepio vede il peccato del popolo e come Mosè alza le mani verso il cielo perché il Signore non distrugga il suo popolo. Emerge qui un concetto sempre presente nella spiritualità cristiana che è stato sintetizzato dalla scolastica con un'affermazione Bonum diffusivum sui. L'amore per sua natura si diffonde e diffondendosi genera altro amore. Abbiamo visto che Parepio ha avuto l'estimma, ha te proiettato verso l'assoluto, è legato a Dio ma per amore diventa intercessore. E' interessante che proprio mentre si sta spezzando davanti a Lui l'unità Dio-uomo perché sta confessando, perché vede i peccatori che si allontanano da Dio, Padre Pio, legato da un dialogo silenzioso e moroso con Cristo, diventa il grande intercessore. E' questo perché la bontà e la misericordia di Dio possano prevalere sul suo legittimo giudizio di condanna per l'uomo peccatore. E' importante sottolineare a questo punto l'impostazione cristologica della preghiera di Padre Pio. La mediazione di Cristo sottende ogni nostra preghiera. Noi usiamo la parola sottende perché diciamo che ogni volta che ci rivolgiamo a Dio lo facciamo attraverso Gesù. Basta guardare la messa, noi diciamo per Cristo il nostro Signore, per il nostro Signore Gesù Cristo. Però questo concetto è talmente sotteso, talmente sottinteso che spesso noi lo dimentichiamo. Cioè, dimentichiamo l'elemento fondamentale. Se io chiedo di pregare con Cristo è perché ho scelto di essere di Cristo. Qualche volta c'è invece quel cristianesimo fatto di una osservanza esteriore per cui sì, osservo i comandamenti ma non sono capace, come ha fatto un po' anche il giovane ricco, di lasciare tutto, cioè di svuotare il mio cuore per seguire il Cristo. Invece Paolo, sappiamo che nella lettera ai Romani parla di una scelta, la scelta di avere, di vivere questo contatto con lo Spirito che è dentro di noi e ci fa gridare Abba Padre. Detto questo, ci accorciamo che invece Paripio è talmente pieno di Spirito Santo che vive un'unione profonda. Quest'unione grande con Dio ma anche quest'unione grande con i fratelli per cui Paripio scrive che brutta cosa è vivere di cuore. Bisogna morire in tutti i momenti di una morte che non fa morire e vivere morendo e morendo vivere. Sembra quasi un gioco di parole che però riassume quello che è il dramma di questo mistico che vedete è proiettato verso l'eternità, vuole che noi siamo proiettati verso l'eternità ma ha uno sguardo, un legame profondo con la vita dei propri fratelli. E direi che questa sorta di debolezza di umanità di Padre Pio è il senso della nostra lettura di oggi. Noi che viviamo la sua debolezza siamo chiamati a vivere anche noi una apertura verso i nostri fratelli. e così possiamo andare alle conclusioni. Questa è una lettera di amore a tutti gli effetti dove chi scrive è disposto a bruciarsi e ad annientarsi per Dio e per i fratelli. Siamo deboli però anche noi possiamo guardare a questo Padre Pio che non aspetta altro con le mani alzate che anche noi le leviamo verso il cielo e per noi e per gli altri gridiamo Signore Misericordia.